Eccoci qua, è un martedì sera, sono le 19 di fine novembre. Questa è il San Nazaro Calcio che si allena, spogliatoi illuminati. E niente, questi si allenano. Allora, il San Nazaro Calcio è una risorsa del paese perché pensate che una squadretta di un paese di neanche 800 abitanti che l'anno scorso è stato promosso e quest'anno per la prima volta nella storia da quanto ho capito milita comunque in un campionato localmente prestigioso, è sicuramente una cosa molto positiva. Infatti l'anno scorso, no, due anni fa, due anni fa ormai, avevo presentato al presidente di questa squadra che tra l'altro è il mio collega amministratore, il signor Marchetti, mio collega di maggioranza. Ho presentato un progetto per trovare il modo di coinvolgere intanto i bambini di San Nazaro, qua nel San Nazaro Calcio. Questo perché pochi lo sanno forse, oppure lo sanno in tanti, ma comunque, di San Nazaro, cioè che abita a San Nazaro, che gioca qua dentro, sapete quanti sono i sannazzaresi, cioè le persone che hanno la residenza, che abitano qua a San Nazaro, che giocano qui? Uno. Cioè in tutto il San Nazaro Calcio ci sono due persone di San Nazaro. Uno è il presidente, che è il mio collega, il signor Marchetti, e l'altro appunto è questo giocatore che comunque fa il portiere, da quello che ho capito, insomma è un po' diciamo sulla via della fine, nel senso per motivi di età, per quello. Quindi noi abbiamo un grosso problema, perché è vero, abbiamo una bellissima cosa del San Nazaro Calcio che è stato promosso, eccetera, però non è normale che non ci sia nessuno di San Nazaro dentro. E tra l'altro, questo secondo me si sente molto di più con le nuove generazioni. Noi, a mio avviso, dovremmo cercare di incentivare i ragazzi di San Nazaro, i bambini, a fare la scuola calcio da noi, a San Nazaro Sesia, perché noi abbiamo tanti, in rapporto alla popolazione, bambini che a San Nazaro giocano a calcio e vanno tutti fuori a giocare. Quindi vanno alla villata, vanno in altri comuni. Questo per San Nazaro è un grosso problema, perché comunque abbiamo tutta gente da fuori che viene qua e questo non va bene. Quindi io avevo presentato al collega un progetto, il collega Marchetti, presidente della sportiva, mio collega consigliere comunale, per coinvolgere i bambini del San Nazaro nel San Nazaro calcio con un progetto di crowdfunding. Quindi coinvolgendo le aziende del territorio, con delle sponsorizzazioni, insomma adesso non sto a raccontare tutta, se c'è qualcuno che guarda questo video si addormenta, ma comunque era un progetto autofinanziato, quindi il comune non doveva mettere niente, le famiglie dei bambini avevano il corredo gratuito, quindi magliette, scarpe, eccetera. E magari riuscivamo a portare qualche bambino a giocare a calcio qui a San Nazaro e quindi a creare il vero San Nazaro a calcio delle persone di San Nazaro. Il collega mi ha fatto raccontare tutto, ha sentito questa idea, poi ha detto ti faccio sapere. Io so che lui è andato, perché me l'hanno raccontato alcune famiglie, è andato da alcune famiglie di San Nazaro a chiedere cosa ne pensavano, però evidentemente non ha capito nulla del progetto che gli ho raccontato perché ha semplicemente detto tu saresti interessato a fare, da quello che mi dicono, tu saresti interessato a fare la scuola di calcio a San Nazaro e le famiglie gli hanno detto giustamente, sempre da quello che mi dicono, no perché il mio bambino va già alla villata piuttosto che da un'altra parte, non è che lo posso togliere e mettere da un'altra parte. Io invece gli avevo dato, appunto col crowdfunding, eccetera, degli incentivi, c'era tutto un discorso di incentivi, eccetera. Vabbè, morale della favola, poi il mio collega non mi ha più fatto sapere niente, quindi neanche ringraziato nulla, non ho più saputo nulla, e quindi non se n'è fatto ovviamente più nulla di questa cosa. Questo perché lo dico? Allora, ritorniamo qua. Oggi è martedì sera, un normale martedì, quindi il San Nazaro calcio non sta giocando, cioè si stanno allenando. Guardate, è tutto illuminato a giorno. Allora, voi immaginate quanto potrà costare ai contribuenti di San Nazaro che pagano tutta questa illuminazione qua. Questo perché pochi lo sanno, ma tutta questa illuminazione, così come compresi le utenze del gas, quindi quando, insomma, il riscaldamento degli spogliatoi, piuttosto che quando si cucinano, fanno le serate, le cose qui della sportiva, paghiamo noi abitanti di San Nazaro. Allora, a me sta bene, perché, ripeto, è comunque una cosa positiva per San Nazaro, eccetera, però sta bene a certe condizioni. Secondo me, noi dovremmo mettere, questa è la mia idea che avevo già proposto diverse volte ai colleghi, dovremmo proporre comunque un tetto massimo, nel senso che, ok, adesso io non so neanche se questi fari si possono accendere parzialmente, magari accenderne solo due altri, spegnerli, però qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in una normalissima serata di allenamento qui è tutto illuminato a giorno. Cioè, negli spogliatoi in questo momento non c'è nessuno, sono tutti illuminati a giorno. Eh, queste cose costano. È chiaro che se tu gli metti un tetto, cioè tu gli dici, ok, allora io pago le spese per l'illuminazione durante le partite, pago le spese tot di allenamenti, però gli metti un tetto, beh, allora è anche per il gas, allora si responsabilizzano. Oggi non è così, loro hanno, tra virgolette, il rubinetto libero, quindi possono consumare quanto gli pare, paghiamo noi. E questa cosa secondo me non è accettabile. E non è accettabile a maggior ragione dopo che io ho dato ai miei colleghi delle alternative. Per le associazioni sportive dilettantistiche come questa è pieno di bandi, cioè ti danno i soldi, ok? Lo Stato, la Regione, l'Europa, la provincia, ti danno i soldi. Quindi mi chiedo, ma perché noi dobbiamo far pesare sui contribuenti di San Nazaro totalmente tutti questi costi di elettricità, di gas, senza dargli neanche una ratio, senza dargli un tetto fisso per dire ok, ti pago solo questo, quando poi addirittura non c'è neanche uno di San Nazaro, anzi c'è solo uno di San Nazaro dentro questo sportivo. Questa è la domanda. Quindi quello che propongo ai colleghi, e ho proposto con uno dei protocolli miei, è semplicemente di mettere un tetto alle spese della sportiva, ok, quindi loro sanno, ovviamente non da oggi alla domani perché sennò li fai saltare giustamente il bilancio, ma dal prossimo anno ad esempio, no? Quindi loro sanno che per il prossimo anno loro comunque hanno pagato questo tot, oltre se loro vogliono accendere tutti i giorni le luci, fare le feste per raccogliere fondi, usare il gas va bene, però lo pagano loro. Eh, e lo pagano loro con i bandi, perché ci sono? Eh, basta usarli, non so perché non li utilizzano. Io ovviamente mi ero dato, l'ho dato la disponibilità al signor Marchetti, ma per trovargli appunto dei fondi eccetera, ma lui non ritiene di utilizzare le mie competenze in tal senso, che è il presidente della sportiva questo. E basta, quindi insomma, secondo me è così. Per quanto riguarda quanto ci costa all'anno, anche lì io sono un consigliere comunale, ma non lo so con esattezza, perché più volte io ho chiesto, diciamo, l'elenco delle bollette, i colleghi di maggioranza hanno fatto sempre resistenza su questo, però questa cosa non va bene, nel senso che io, ma non io, che non conto nulla, il consigliere comunale, chiunque esso sia, ha diritto per conto dei cittadini di sapere questo, perché i cittadini devono sapere quanto pagano, e quindi io su questa roba non mollerò, possono urlare, perché poi urlano contro di me, ma non importa. I colleghi di maggioranza possono urlare, non tutti, fortunatamente, solo alcuni, possono urlare quanto li pare, ma comunque su questa cosa andrò a fondo, perché io voglio sapere in questo momento quanto ci sta costando tutta sta luminaria di Natale che abbiamo qua, fuori stagione, perché i cittadini pagano ed è giusto che sappiano quanto stanno pagando. Quindi niente, andremo avanti.